Questo non è un consiglio per gli acquisti ma è semplicemente un invito a tutti i nostri militanti, a chi ha voglia di sentire parlare di politica, quella giusta, quella di Matteo Salvini, quella della Lega. 27, 28 e 29 in quel di Albino in Valseriana, Bergamo, Bergen Frecce, oramai siamo alla sesta edizione, pensiamo proprio di poter bissare il successo che c'è stato nelle altre edizioni. Avremo il 27 Maroni con Grimoldi, il 28 Matteo Salvini con altri deputati e consiglieri regionali e chiuderemo poi in bellezza con Calderoni, grande padrone di casa e con altri deputati che ci raggiungeranno. Chiaramente la parte più importante di tutta la festa sarà, oltre ai nostri big, sarà dettata proprio dalla capacità che avremo di fare corpo unito nei confronti anche di un Matteo Renzi che ultimamente ci sta un po' stufando. Noi abbineremo alla buona cucina, alla politica che in quel periodo è un po' morta ma noi siamo sempre vivi come al solito, a un'attenzione particolare per chi ha voglia veramente di stare insieme.